un povero vecchio con la barba bianca ci chiese le lemosine il mio amico joseph de branche gli dette uno scudo e io ne fui sorpreso allora mi disse quel mendicante mi ha fatto venire in mente una storia che mi è rimasta impressa nella memoria te la voglio raccontare eccola la mia famiglia originaria di le house non era ricca mio padre lavorava tornava tardi dall'ufficio e non guadagnava granché oltre a me saranno anche due sorelle mia madre soffriva molto a causa delle ristrettezze in cui vivevamo e quindi rivolgeva spesso al marito parole aspre rimprove rivelati e perfidi in queste circostanze quel pover uomo faceva un gesto che mi straziava il cuore si passava la mano aperta sopra la fronte come per asciugare un sudore che non c'era e non rispondeva a nulla sentivo il suo dolore impotente si faceva economia su tutto non accettavamo mai un invito a colazione per non da sole e discutevano a non finire sul prezzo di una guarnizione che costava 15 centesimi al metro il nostro pasto d'ogni giorno era una minestra e un pezzetto di manzo ripassato in tutte le salse pare che sia sano e sostanzioso ma io avrei preferito ogni tanto qualcosa di diverso mi facevano scenate inaudite per un bottone perduto per un pantalone strappato ma ogni domenica andavamo a fare una passeggiata sul molo in pompa magna mio padre in finanziara guanti e cilindro dava il braccio alla mamma tutta infiochettata come un bastimento nelle feste nazionali le mie sorelle che erano sempre le prime ad essere pronte aspettavano il segnale di partenza ma all'ultimo istante si scopriva sempre un'altra macchiolina di unto sulla finanziara del genitore bisognava toglierla assolutamente con uno straccetto intriso di benzina mio padre col cilindro in capo in maniche di camicia aspettava che l'operazione fosse terminata mentre la mamma si dava da fare dopo aver inforcato le sue lenti da miope ed essersi tolta i guanti per non sciuparli ci mettevamo in cammino con molta solennità le sorelle andavano avanti a braccetto erano in età da marito e si dovevano far vedere da tutti io stavo alla sinistra di mia madre e mio padre sulla sua destra mi ricordo l'aria tronfia e maestosa dei miei poveri genitori in quelle passeggiate domenicali la rigidezza del loro volto la severità del portamento avanzavano compassati col busto eretto le gambe tese come se qualcosa di molto importante dipendesse dal loro contegno tutte le domeniche vedendo entrare i piroscafi che tornavano da paesi lontani e sconosciuti mio padre diceva invariabilmente le stesse parole ah se jules fosse lì dentro che sorpresa lo zio jules fratello di mio padre era la sola speranza della famiglia dopo esserne stato il terrore avevo sentito parlare di lui da quando ero piccolo e mi sembrava di poterlo riconoscere a prima vista tanto il pensiero di lui mi era diventato familiare conosceva ogni particolare della sua vita fino al giorno della sua partenza per l'america quantunque di quel periodo se ne parlasse soltanto a bassa voce pare che si fosse comportato male cioè che avesse sperperato un po' di denaro il che è senz'altro il più gran delitto per le famiglie povere fra i ricchi un uomo che si diverte fa delle sciocchezze è quel che si definisce sorridendo un gaudente fra i più bisognosi un giovane che costringe i suoi genitori a intaccare il capitale familiare diventa un cattivo soggetto un mascalzone un furfante questa distinzione è giusta anche se poi il fatto è sostanzialmente lo stesso poiché soltanto le conseguenze determinano la gravità dell'azione insomma zio jules aveva notevolmente ridotto l'eredità sulla quale mio padre contava dopo essersi del resto mangiata a sua parte fino all'ultimo centesimo lo avevano fatto imbarcare per l'america come si faceva allora su una nave mercantile che andava dalle avra a new york una volta laggiù zio jules si diede al commercio di non so che e scrisse dopo un po' che guadagnava qualche soldo e che sperava di poter presto risarcire mio padre del danno che gli aveva arrecato questa lettera fece una profonda impressione in famiglia jules che come si diceva non valeva un soldo bucato diventò un onestuomo un ragazzo di cuore un vero devranche integro come tutti i devranche un capitano ci fece inoltre sapere che aveva preso in affitto una grossa bottega e che faceva buoni affari una seconda lettera due anni dopo diceva mio caro philippe ti scrivo per rassicurarti sulla mia salute che è buona anche gli affari vanno bene parto domani per un lungo viaggio nell'america del sud forse per parecchi anni non ti darò mie notizie ma se non scrivo non stare in pensiero tornerò alle havre una volta fatta fortuna spero che non ci vorrà molto tempo e poi vivremo insieme felici questa lettera era diventata il vangelo della famiglia veniva letta continuamente veniva mostrata a tutti per dieci anni infatti lo zio jules non diede più notizie di sé ma le speranze di mio padre aumentavano col passare del tempo e anche mia madre diceva spesso quando quel caro jules sarà qui la nostra situazione cambierà lui sì che ha saputo cavarsela e tutte le domeniche vedendo spuntare all'orizzonte i grandi piroscafi che vomitavano serpenti di fumo nel cielo mio padre ripeteva la sua eterna frase ah se là dentro ci fosse jules che sorpresa e quasi ci si aspettava di vederlo agitare un fazzoletto gridando uè philippe erano stati fatti mille progetti su questo ritorno sicuro e fra le altre cose coi soldi dello zio si doveva comprare una casetta di campagna vicino a engouville e forse mio padre aveva già intavolato trattative per il futuro acquisto la sorella maggiore aveva allora 28 anni l'altra 26 non trovavano marito ed era un dolore per tutti finalmente si presentò un pretendente per la seconda un impiegato non ricco ma per bene sono sempre stato convinto che la lettera dello zio jules che gli fu mostrata una sera avesse messo fine alla sua incertezza e incoraggiato la sua decisione la sua richiesta fu accolta con sollecitudine e fu deciso che dopo il matrimonio tutta la famiglia avrebbe fatto insieme un viaggetto a Jersey Jersey è il villaggio ideale per la gente povera non è lontana si traversa il mare sul vapore e ci si trova in terra straniera perché l'isoletta appartiene agli inglesi perciò un francese con un paio d'ore di navigazione può offrirsi la visita di un popolo vicino e può studiare i costumi peraltro deplorevoli di quell'isola coperta dalla bandiera britannica come dice la gente che si esprime con semplicità quel viaggio a Jersey diventò la nostra unica preoccupazione l'unica attesa il sogno di ogni istante finalmente si partì rivedo ogni cosa come se fosse ieri il vapore con le caldaie accese ormeggiato al molo di Grenville mio padre trepidante che sorvegliava l'imbarco delle nostre tre valigie mia madre inquieta che aveva afferrato il braccio di mia sorella non sposata che pareva sperduta dopo il distacco dall'altra come il pulcino rimasto il solo nella covata e alle nostre spalle gli sposi novelli che rimanevano sempre indietro cosa che mi faceva spesso voltare la testa la sirena fischiò eccoci saliti ed ecco il vapore che staccandosi dal molo ci allontanò su un mare piatto come una tavola di marmo verde guardavamo le coste allontanarsi felici e fieri come tutti coloro che viaggiano di rado mio padre gonfiava il ventre sotto la rete lingotte che era stata accuratamente smacchiata la mattina stessa e diffondeva intorno a sé quell'odore di benzina dei giorni di festa che mi faceva riconoscere le domeniche a un tratto vide due eleganti signore alle quali due signori stavano offrendo delle ostriche un vecchio marinaio cencioso apriva i molluschi con la punta di un coltello e li tendeva ai signori che a loro volta li porgevano alle signore costoro mangiavano con delicatezza tenendo il guscio su un fazzoletto sottile e sporgevano le labbra per non macchiarsi i vestiti poi bevevano l'acqua con una mossetta rapida e gettavano il guscio in mare mio padre fu senza dubbio affascinato da quel gesto distinto di mangiare le ostriche su un vapore in navigazione la trovò una cosa di buon gusto raffinata superiore e si avvicinò a mia madre e alle sorelle chiedendo volete che vi offra qualche ostrica mia madre esitava per via della spesa ma le mie sorelle accettarono subito mia madre disse contrariata ho paura che mi facciano male allo stomaco offrile soltanto alle ragazze ma non troppe potrebbero far loro male poi volgendosi verso di me aggiunse quanto a Joseph non ce n'è bisogno non si devono viziare i ragazzi rimasi dunque accanto alla mamma non trovando giusta quella distinzione seguivo con gli occhi mio padre che conduceva tutto tronfio le figliuole il genero verso il vecchio marinaio lacero le due dame si erano appena allontanate e mio padre si mise a mostrare alle mie sorelle come dovevano fare per mangiare le ostriche senza lasciar cadere il liquido volle dare l'esempio e prese un'ostrica nel tentativo di imitare le due signore si versò immediatamente tutta l'acqua sulla finanziera ed io sentì la mamma brontolare farebbe meglio a starsene tranquillo improvvisamente mio padre mi sembra preoccupato si allontanò di qualche passo guardò fissamente la sua famiglia raccolta intorno all'ostricaio e venne rapido verso di noi mi pare pallidissimo con uno sguardo strano disse sottovoce a mia madre è incredibile quanto quell'uomo che apre le ostriche somiglia a Jules mia madre stupita chiese quale Jules ma mio fratello rispose mio padre se non sapessi che se la sta passando bene in America dirai senz'altro che è lui la mamma spaventata balbettò ma ma sei matto dal momento che sai benissimo che non può essere lui perché dici simili sciocchezze un po' a vedere Clarisse preferisco che te ne renda conto tu stessa con i tuoi occhi lei si alzò e andò a raggiungere le figliuole anche io mi mise a guardare l'uomo era vecchio sporco rugoso e non alzava mai gli occhi dal suo lavoro mia madre tornò mi accorsi che tremava disse in fretta credo che sia lui va a chiedere informazioni al capitano ma soprattutto sii prudente se no quel farabutto ci ricasca addosso proprio ora mio padre si allontanò ed io lo seguì mi sentivo stranamente commosso il capitano un signore alto magro con delle lunghe fedine passeggiava sul ponte con aria di importanza come se avesse comandato il corriere delle indie mio padre gli si accostò tutto cerimonioso e lo interrogò sul suo lavoro dispensandogli complimenti qual era l'importanza di Jersey prodotti popolazioni costumi natura del suolo eccetera eccetera pareva che si trattasse almeno degli stati uniti d'america poi parlarono del vapore sul quale ci trovavamo l'express e si arrivò all'equipaggio mia padre chiese infine con voce alterata vedo qui a bordo un vecchio stricaio che sembra un tipo molto interessante sapete dirmi qualcosa di lui il capitano che cominciava a seccarsi di quella conversazione rispose seccamente un vecchio vagabondo francese che ho trovato in america l'anno passato e l'ho riportato in patria pare che abbia dei parenti alle havre ma non vuol tornare da loro per via di un debito si chiama Jules Jules d'Armache o d'Arvance o qualcosa del genere pare che una volta laggiù sia stato ricco ma vedete ora come si è ridotto mio padre livido articolò con la gola stretta e gli occhi stralunati ah benissimo benissimo non c'è da stupirsi mille grazie capitano e se ne andò mentre il capitano lo guardava allontanarsi stupito tornò accanto a mia madre talmente sconvolto che lei gli disse mettiti a sedere o si accorgeranno di qualcosa lui si lasciò cadere sulla panca balbettando è lui è proprio lui poi chiese cosa facciamo la mamma rispose in fretta bisogna allontanare le ragazze siccome joseph sa tutto andrà a chiamarle soprattutto bisogna stare attenti che nostro genero non si accorga di nulla la mamma rispose in fretta mio padre pareva annientato mormorò che catastrofe e la mamma improvvisamente si infuriò ho sempre pensato che quel ladro non avrebbe mai combinato niente di buono e ci sarebbe ricascato addosso come ci si potrebbe aspettare qualcosa di buono da un davranche mio padre si passò la mano sulla fronte come faceva sempre sotto le sfuriate della moglie lei aggiunse ora dai soldi a joseph perché vada a pagare le ostriche ci mancherebbe altro che quel mendicante si riconoscesse si farebbe una bella figura sulla nave andiamocene dall'altra parte e fa in modo che quest'uomo non si avvicini a noi si alzò e si allontanarono dopo avermi dato uno scudo le mie sorelle sorprese aspettavano nostro padre io dissi che la mamma aveva avuto un po' di mal di mare e chiese allo stricaio quanto vi dobbiamo signore avevo voglia di dire zio rispose due franchi e cinquanta porci lo scudo e lui mi dette il resto gli guardai la mano una povera mano di marinaio tutta grintosa e il viso un viso vecchio e misero triste e accasciato dicendo tra me è lo zio un fratello di mio papà mio zio gli lasciai dieci soldi di mancia le ringraziò dio vi benedica signorino aveva la voce di un povero che riceve le lemosina pensai che aveva dovuto mendicare laggiù le mie sorelle mi osservavano stupite della mia generosità quando restituì due franchi a mio padre la mamma sorpresa mi chiese hai speso tre franchi non è possibile dichiarai con voce ferma ho dato dieci soldi di mancia mia madre sussultò e mi guardò negli occhi ma sei impazzito dare dieci soldi di mancia a quell'uomo a quello straccione si trattenne sotto l'occhiata di mio padre che le indicava il genere poi nessuno parlò più davanti a noi all'orizzonte un'ombra viola pareva sorgere dal mare era Jersey mentre accostavamo alla banchina fui preso da un violento desiderio di rivedere ancora una volta lo zio Schull di avvicinarmi di dirgli qualcosa di consolante di affettuoso ma siccome nessuno più mangiava ostriche lui era scomparso probabilmente sceso in fondo alla stiva fetida dove alloggiava e tornammo col vapore di Saint Malone per non incontrarlo mia madre era tutta un tremito io non ho mai più rivisto il fratello di mio padre ed ecco perché mi vedrai qualche volta regalare uno scudo a un vagabondo è un vagabondo è un vagabondo di rivedere uno scudo Grazie.